Allora ragazzi, voi avete vinto il premio al progetto più innovativo. Com'è stata questa esperienza per voi? Bella, assolutamente bella. Indipendicabile. Anche perché ci ha fatti crescere dal punto di vista personale, stando in gruppo con altre persone. E' stato molto bello lavorare insieme, soprattutto con le mie compagnie che sono state molto disponibili. E inoltre c'è anche l'opportunità di conoscere delle cose nuove, anche lavorare con Arduino, che era una piattaforma che non avevamo mai avuto la possibilità di poterci lavorare, anche capire che poteva essere un qualcosa di utile per la nostra vita. Per noi è stata comunque una novità, e grazie ai nostri compagni dell'università che comunque ci hanno fatto delle lezioni prima di fare la gara, abbiamo capito come funzionava e grazie a loro siamo riusciti anche ad ottenere questo. Dopo che si vince un premio che si fa? Si vince già. Grazie. Grazie.